Allora sì, intanto l'auspicio è proprio quello che in commissione possa ritornare io e continuare a portare avanti tutto il lavoro fatto durante questi anni in commissione di inchiesta, tante sono state le indagini svolte, è veramente un lavoro abbastanza proficuo, è veramente una disamina proprio puntuale sul fenomeno della violenza di genere perché spesso è un fenomeno, vuoi dire, è noto ma non è conosciuto, quindi ho avuto l'opportunità proprio di conoscere questo fenomeno e da lì dare, interpretare al meglio le esigenze in maniera concreta e strutturali da rispondere a questa terribile piaga sociale e quindi l'educazione sessuale nelle scuole insieme all'educazione emozionale. L'educazione emozionale già è stata incardinata in commissione sanato-voltura, però purtroppo date le vicende sovapolitiche l'hanno, vuol dire, bruscamente stoppata, quindi l'auspicio è proprio quello di riprendere da lì in avanti sia nei lavori della commissione d'inchiesta che sono dei lavori comunque di non ritorno, di andare oltre io riferisco soprattutto per esempio alle vittimizzazioni secondarie, alla violenza istituzionale, a tutta quella teoria pacista che ha formato magistrati e avvocati che comunque mietono vittime a partire dall'interesse preminente che dovrebbe essere il minore che poi di fatto assolutamente non viene preso in considerazione alla cosa drammatica che è questa.